Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù, nel Tempio, diceva alla folla nel suo insegnamento Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro In verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Pace e bene, e ben ritrovati amici di Padre Pio TV. La liturgia della parola della 32esima domenica del tempo ordinario ci invita a riflettere sul significato del dono. Ascolteremo dei brani che per certi versi ci commuovono per l'atteggiamento dei protagonisti, o meglio delle protagoniste, visto che si tratta di due vedove nei contesti in cui vengono presentate. Sappiamo bene che le vedove, nella cultura del tempo, appartenevano ad una categoria sociale fragile. La vedova aveva bisogno di protezione, di aiuto. Una donna rimasta sola, vedova, nel mondo biblico, è l'immagine della debolezza e della fragilità. Ebbene, proprio da loro ci viene dettato un insegnamento di generosità e di fede. Nella prima lettura, tratta dal primo libro dei Re, la protagonista è una vedova disarepta, del profeta Elia, nonostante poteva significare la fine per lei e per suo figlio. Elia arriva a Zarepta, vede questa donna che raccoglieva la legna e le chiede di portargli un bicchiere d'acqua e un pezzo di pane. Ma la donna, purtroppo, non aveva che un po' di farina e un po' d'olio. Solo quanto bastava per mangiare un'ultima volta con suo figlio. Ma Elia la incoraggia. Non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché, così dice il Signore, Dio di Israele, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. E così fu, conclude il brano, mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. Chi si affida al Signore non rimane deluso. Un gesto di generosità viene sempre ricompensato, più del doppio. E così un altro commovente esempio ci viene dalla pericope evangelica. Gesù è al Tempio e mentre ancora una volta condanna l'ipocrisia di chi si preoccupa solo dell'apparenza, osserva la folla che getta monete nel tesoro del Tempio. Ad un certo punto arriva una povera vedova e vi getta due piccole monetine. Praticamente nulla in confronto alla quantità di monete che vi gettavano i ricchi. Probabilmente solo per farsi vedere. Gesù allora prende subito spunto da quel gesto e dice ai suoi discepoli «In verità, io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». L'insegnamento che ne deriva dalla parola di questa domenica allora è molto forte. Il vero dono, la vera offerta è un gesto d'amore autentico che mette a rischio la nostra vita e scaturisce proprio da un atteggiamento di fede vera in colui che, come diremo, canteremo nel Salmo responsoriale, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, sostiene l'orfano e la vedova e sconvolge le vie dei malvagi. Che il Signore, carissimi amici, dia anche a noi la forza e il coraggio necessari per esercitare con fede l'esemplare generosità di queste due vedove. Grazie a tutti voi per averci seguito. Pace e bene e buona domenica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.